Benvenuti o bentornati in un nuovo book tag! Non vedevo l'ora di farne, mi spiace che non riesco a farli in tre con le mie personalità perché mi ricordo che vi era piaciuto il book tag quell'altra volta però è troppo difficile, al momento è veramente troppo difficile non è che abbia tutto questo tempo per registrare quindi ce la facciamo prendere bene così abbiamo un po' di domandine sull'autunno, su Halloween, infatti questo è l'Halloween book tag che ho preso da Alice Cava che ha un altro canale booktube qui, la ringrazio per averlo messo così bene e averlo spiegato perché ha delle domande un po' così, un po' fraintendibili diciamo e ho qui la nostra piletta di libri da inserire, quasi nessuno mi è piaciuto, questo sarà molto buffo però ho voluto interpretare le domande in un certo qual modo, questo non sarà proprio un video di consigli ma anche di sconsigli e ho cercato con tutte le mie forze di non inserire cose che vi avevo già detto ma è stato un parto, vi giuro, è stato veramente veramente difficile prima di venire a noi vi dirò che invece i libri che mi sono piaciuti li troverete giù con il link di affiliazione Amazon se comprerete da lì a me entrerà una piccola percentuale, a voi non costerà nulla e nei commenti sarei felicissima di avere le vostre risposte giù in descrizione vi lascio tutte le domande che potete copiare, incollare e inserire le vostre risposte iniziamo! Zucca! La lanterna si accende, quale libro avrebbe bisogno di un po' di luce? questa domanda poteva essere intesa come un libro scuro che ha bisogno di luce quindi proprio l'ambientazione è buia, avevo pensato anche alla variante di Luneburg che però non mi è piaciuto quel libro, ma può essere anche interpretata questa domanda come un libro che ha bisogno di più hype, di più luce, di più visibilità ma è arrivata la parola alla fine e ho pensato Balzac e la piccola sarta cinese questo è un libro che in realtà in tanti hanno letto però non lo vedo abbastanza e non ne vedo abbastanza parlare io ho fatto addirittura una reaction delle ultime pagine, le ultime dieci pagine in lettura vi ho parlato benissimo di questo libro, vi ho letto delle parti perché dico che dovrebbe avere più visibilità? perché contiene delle cose della Cina comunista importanti da sapere la riforma agraria, alcune cose riguardanti le persecuzioni io le trovo importanti quindi è un bel libro, è scritto bene, passa via veloce ci sono pochi trigger secondo me c'è solo la violenza sugli animali quello ve l'ho detto anche altre volte ve l'ho nominato solo in un paio di video forse, mentre lo stavo leggendo quindi spererei di avervi interessati almeno un minimo non ve li leggerò soltanto perché sono tanti e vorrei andare un po' rapidamente trick or treat? suonano il campanello, fai la tua scelta quale libro regaleresti? uno dei libri che ho sempre regalato perché secondo me è di facile lettura è Seta di Baricco quando ho iniziato a bazzicare il booktube ho scoperto che solo a me piace Baricco quanto pare però, che gli volete dire? questa è la storia di un uomo che fa la via della seta per andare a fare dei commerci in Giappone da sicuro è bellissimo è bellissimo, è un libro molto poetico i capitoli sono molto brevi anche solo di penza pagina c'è tutto un'ambientazione poetica, delicata, giapponese secondo me è un libro stupendo e si legge in poco e regalandolo non fate in sorda di danno date retta a me l'ho visto leggere praticamente a chiunque perché è di super facile lettura Casa Infestata un libro dalla copertina inquietante ho scelto Casa di Bambola di Ibsen non è che succeda tanto in Casa di Bambola questo è uno spettacolo teatrale io l'ho visto a teatro con mia madre poi ho scoperto che lo avevamo in casa me lo sono letto è più psicologico non so bene come descrivere Casa di Bambola però vi può dare un'idea dell'angoscia esistenziale non so neanche come riassumere tra la trama però è stato bello vederlo a teatro anche se è un po' strano non Beckett però vicino Fantasma il libro più spaventoso che hai letto il più spaventoso non ne ho di spaventosi però mi sembra che quando ho letto la prima volta L'ombra del vento che ero molto piccola avevo iniziato e mi aveva impressionata perché a un certo punto c'è la descrizione di lui che sta al molo di notte e vede solo la luce di una sigaretta con questa immagine ma veramente angosciata cioè che lui non vede niente poi a un certo punto vede il carboncino della sigaretta e lo vede riflesso negli occhi della persona al buio là ma mi erano venuti i brividi poi il libro mi ha fatto schifo quindi non prendetemi in parola e ho pensato quella che ultimamente mi ha angosciata da morire lo schiacciandoci di Hoffman perché? perché io ho la fobia dei topi lo sapete ormai ve l'avrò ripetuto mille volte e qui c'è l'esercito dei topi anche se vuoi parlarne che ho venuto i brividi e per riuscire a finirlo ho dovuto usare l'audiolibro anche se è così piccino mi piace il film di Barbie mi piace il balletto non avevo avuto problemi quando ero andata a vedere il balletto al teatro dell'opera il libro non riuscivo a finirlo per giuro mi stava facendo ansia, paura e terrore solo io posso inserire lo schiacciandoci come libro horror ma questo vi dà l'idea di quanto esistano gli horror per me in realtà Vampiro un libro che ti ha ammaliata prima di partire per Parigi ho letto Festa Mobile di Hemingway ero in balia di questo libro l'ho letto ininterrottamente per un paio di giorni e l'ho finito subito nonostante fosse scritto piccolo 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 e mi sono innamorata della prosa di Hemingway ne ho comprato un altro ho paura a leggerlo mi sa che era addio alle armi tipo l'ho trovato all'usata a 2 euro che fai lo lasci lì ma che siamo matti però ho paura di ho paura di leggerlo perché ho paura di rimanere delusa perché questo ha avuto la combo di troppe cose stupende qui c'era Parigi c'era Fitzgerald c'era Gertrude Stein c'era Sylvia Betts c'era Parigi in generale c'era Parigi e queste sono le memorie di Hemingway che scrive da vecchio di quando da giovane invece viveva là bellissimo non so che altro dire la vita bohemian tutto tutto straordinariamente bello è pieno di post-it perché sono i personaggi che poi sono tutte persone realmente esistite è pazzesco come poi lui dica che non dobbiamo credere e non dobbiamo credere a quello che dice perché ovviamente ha romanzato le sue memorie che non è credibile non lo so è stato uno dei libri migliori di quest'anno mi ha proprio riempito il cuore Dolciumi siate golosi i tuoi libri preferiti qua troppo ce n'era da parlare quindi ho detto prendiamo quello che mi fa venire più in mente tra i miei preferiti i dolci e quale se non a neve ferma di Stefania Bertola vi ho parlato abbondantemente di questo libro nel mio video dedicato a Stefania Bertola che all'epoca però era sguarnito di alcuni dei titoli che sono usciti ultimamente perché il video che ho fatto è del 2020 mentre lei più o meno pubblica un libro ogni anno, ogni due anni più o meno questo è il racconto di una ragazza che ha una pasticceria ha il quaderno delle ricette del padre se non ricordo male e decide di andare a fare un concorso del gambero rosso sui dolci è troppo bello tanti personaggi tante scenette buffe comiche poi lei ha sempre questo umorismo molto divertente adorato frega mescola il calderone quale libro ti ha ingannata? quest'anno mi ha ingannata La sorella di Mozart ho comprato questo libro alla fiera di più libri più liberi ero super fomentata dalla Marcosi Marcos perché la vedova Van Gogh di questa casa editrice è uno dei miei libri preferiti questo libro mi ha fatto schifo i post-it come al solito sono solo i personaggi mi ha fatto schifissimo sono triste per questa cosa perché io speravo di scoprire la storia di Nan Erl la sorella di Mozart effettivamente mentre è tutta una tiritera di cose inventate e poi alla fine dice mi sono inventata tutto non è niente di vero sto scherzando oltre al fatto che è scritto malissimo ma avevo male brutto cringe andiamo avanti che è meglio alcuni libri è meglio chiuderli per non soffrire troppo quali? e io ho proprio pensato a quale libro hanno usato il sentore di trauma pesante e ho detto no e l'ho chiuso lo trovate anche nel mio reading vlog del 2022 mi sembra ed è Paradiso di Gurnà altro premio Nobel visto che ultimamente ho avuto a che fare con Anir No anche se voi ancora non lo sapete ma lo scoprirete nei futuri alle lunedì iscrivetevi e attivate la campanella per essere sempre aggiornati su tutti i miei contenuti questo libro io lo stavo leggendo ero anche a buon punto ero pagina 86 è scritto divinamente perché è gigante però stava per avvenire uno dei miei trigger warning più pesanti perché c'è un bambino e c'è un uomo adulto che ama fare sesso senza consenso quindi ho detto no non voglio poi magari non succede niente io lo scoprirò in futuro prima o poi lo riprenderò in mano ma questo sicuramente è un libro che ho come ha detto chiuso per non soffrire troppo Ragnatela un libro in cui ti sei impigliato e hai fatto fatica a liberarti l'ho presa proprio nel senso più negativo del termine ed è stato Lettere dal carcere di Gramsci questo libro mi ha fregata perché inizialmente credevo che avrebbe avuto l'audiolibro l'audiolibro leggeva soltanto neanche il 10% delle lettere ok? ve ne parlerò negli alle lunedì che arriveranno perché infatti ora che ci penso non è uscito ancora le lunedì in cui ne parlo è la magia del registrare le cose troppo in anticipo perché sono rimasta impigliata? perché non lo volevo continuare a leggere è scritto minuscolo è scritto pesante la maggior parte delle informazioni non sono importanti ma continuavo per un senso del dovere perché dicevo oh ma questo ha sacrificato la sua vita per l'Italia ha sacrificato la sua vita per la nostra libertà che fai? non finisci neanche le lettere? cioè lui ha sacrificato la vita e tu non fai neanche lo sforzo di leggere quello che ha scritto secondo me queste sono state scritte per essere lette secondo me cioè erano comunicazioni con i familiari non lo leggete studiamo Gramsci non leggiamo le lettere dal carcere al massimo mi sembra che esistano i quaderni dal carcere sono tutta altra storia e ultima domanda la cosa buffa è che quando io ho letto questa domanda ho detto è lui è assolutamente lui che è lo stesso identico libro che ha detto anche Alice Cava mi ha fatto troppo ridere questa cosa perché io l'ho preso poi ho visto fammi sentire bene nel video che cosa dice lei come ha analizzato questa domanda e dice scheletro qual è il tuo scheletro nell'armadio? per me lo scheletro nell'armadio è quel libro che ho letto in epoche passate che ormai te fa schifo che è assolutamente tre metri sopra il cielo l'orrore delle relazioni tossiche sbagliate la concezione delle prime volte sbagliata tante cose sbagliate questo libro come di altri libri di moccia poi presi anche mi ricordo ho voglia di te e non lo finì perché era veramente troppo forse stavo maturando un po' di critica mentale e quindi ho capito che quello che stavo leggendo non andava bene però sono contenta che abbiamo un po' tutti lo stesso scheletro nell'armadio per quanto riguarda la mia generazione Europa più 20 basta vi ripeto se volete rispondere alle domande sarei contentissima di leggervi già nei commenti e ora non mi rimane che augurarvi buona vittura buona vittura grazie 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 a tutti.